Oggi presentiamo una modifica alla legge 22 della regione toscana che regola il Corecom. Il Corecom che cos'è? È il Comitato Regionale per le Comunicazioni. Il Corecom si occupa in ambito televisivo di tutelare l'infanzia, sia sulle pubblicità, sulle trasmissioni, ma anche sui social network in internet. Si occupa della par condition, qualora ci fosse un confronto elettorale, che tutte le forze abbiano equivalente spazio. Per questo già in Corecom ci sono delle incompatibilità, cioè nessun dipendente dei massimi operatori televisivi può far parte del Corecom. Con questa modifica che noi facciamo andiamo a aggiungere delle incompatibilità, perché il Corecom si occupa anche di controversie telefoniche. Quindi un cliente di un operatore telefonico che ha avuto un problema col contratto, tariffazioni esagerate e non congrue, si rivolge al Corecom per essere tutelato. Noi abbiamo aggiunto l'incompatibilità all'interno del Corecom di avvocati, conciliatori e mediatori professionisti di queste controversie. Questo per garantire la massima trasparenza nell'operato del Corecom e a massima tutela dei cittadini.